Prima di entrare nei dettagli, non dimenticate innanzitutto di sostenerci con ammirazione per questo video e condividerlo con tutti al fine di evitare improvvisi e maltempo, se in Italia sono previsti forti temporali e forti piogge questa sera, venerdì 2 giugno 2023, e questo nelle regioni centro-meridionali e in misura minore nelle regioni settentrionali, con il rischio di presentare alluvioni per attività temporalesca improvvisa e il rischio di caduta di grandinate di piccole e grandi dimensioni, e quindi molto pesanti piogge e temporali forti questo venerdì sera a Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna, anche temporali forti, ma in aree separate di Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia settentrionale, Trento, Alto Adige, Friuli, Venezia, Giulia Veneto ed Emilia-Romania, e questi temporali continueranno, soprattutto durante il periodo serale, almeno fino alla fine della prima settimana di giugno 2023, e ogni altra importante notizia che vi forniremo in seguito. Essere sano.